. Fedez, comunisti col Rolex colleziona 18 dischi di platino. . In pochissimi anni ne ha fatta di strada, e ne ha e come di che festeggiare, nonostante sia quotidianamente bersagliato da milioni di critiche, Fedez ha messo a segno una scalata eccezionale, nelle classifiche musicali ed anche socialmente, arrivando a guadagnare milioni di euro tra dischi e sponsorizzazioni. . . Ed in queste ore è arrivata l'ennesima conferma del suo successo inarrestabile, il rapper più famoso dello stivale ha festeggiato il diciottesimo disco di platino per il progetto comunistico Rolex, in collaborazione con Ilunga Axe, lo zio più famoso di sempre. . 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